Un'altra crisi politica nel bel mezzo di una pandemia è probabilmente l'ultima cosa che Bruxelles avrebbe voluto vedere in Italia. Le dimissioni del Premier Giuseppe Conte fanno sorgere preoccupazioni sulla capacità del Paese di utilizzare efficacemente i soldi dell'Unione Europea per la ripresa economica. Una prima versione del piano di ripresa è stata già approvata dal Parlamento, ma mancano ancora molti dettagli. Ci aspettiamo che questo lavoro continui, afferma il Vicepresidente della Commissione Europea, e in ogni caso l'Italia è di gran lunga il maggior destinatario dei fondi per la ripresa economica. C'è quindi molto interesse da parte di tutto lo spettro politico per garantire che il lavoro preparatorio sia finito e che l'Italia possa iniziare a ricevere quei soldi. Lo scenario più probabile è un terzo mandato per Giuseppe Conte, tuttavia si teme che nuove elezioni possano rallentare il processo di stesura della versione finale del piano di ripresa, l'eurodeputata Irene Tinagli assicura il Paese ha già posto delle solide basi. Qualunque cosa accadrà nei prossimi giorni non ricominceremo da zero. Avevamo già messo in atto alcune riforme ed idee su come accelerare il processo di implementazione, perché sappiamo che quella sarà la grande sfida. La crisi ha di sicuro fatto inarcare le sopracciglia di quei paesi frugali come l'Austria, che inizialmente erano riluttanti all'idea di condividere il debito per finanziare la ripresa europea. Si tratta di denaro dei contribuenti, afferma questo eurodeputato. Qualcuno ha lavorato duramente per quei soldi. Sono soldi dei cittadini europei ed è per questo che in ogni caso siamo obbligati a prenderci cura del denaro dei contribuenti il più possibile. L'utilizzo efficace di questi soldi da parte dell'Italia è visto come un elemento cruciale non solo per il Paese, ma anche per la credibilità del progetto europeo. Grazie.